La promessa che avevo fatto nel 2008 di andare a individuare tutto quello che fosse inutile in termini di legge, ne abbiamo trovate tante e ne abbiamo eliminate con venerdì scorso 375 mila norme tra leggi e regolamenti. Adesso vengo a sistemarvi un attimo. Ancora, 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 non ti dice che a sé, non mi brucia più. Mi guarda, mi guarda, mi guarda, mi guarda, mi guarda, mi guarda, mi guarda. Grazie. 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 Ministro 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 ma vengono un attimo qua davanti sono il Ministro sono il Ministro si codacca o no? sono il Ministro sono leggi sono leggi sono leggi sono leggi per noi e dietro basta, basta, basta grazie anche qui Ministro anche da questo lato Ministro per poi Ministro grazie ci metto dietro ah bella pure non fanno niente ehi 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 sono leggi di nuovo di nuovo ministro di nuovo Scusa! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.